Rieccoci ancora in studio per affrontare un altro argomento, parliamo dei flussi turistici, in questo caso dei flussi turistici a Matera che pare stiano subendo un calo in questi ultimi mesi, luglio, giugno, dopo una partenza ad aprile nella primavera assolutamente buona e in linea. Ne parliamo con il presidente dell'associazione BNB Matera che è Guido Galante, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti. Mi conferma che c'è stato un calo nei mesi di giugno e luglio e continua ad esserci di turisti? Sicuramente, questa purtroppo è una dura realtà che si è verificata e si continua a verificare quest'anno. Rispetto allo scorso anno c'è un evidente calo di presenze qui a Matera. Presenze intendiamo gente che viene per notte a Matera. Purtroppo ogni anno ci troviamo a dire sempre le stesse cose, forse faremo prima a dire quello che va di quello che non va, cioè nulla. Il calo ha una sua misura, in che percentuale c'è stato questo calo? Penso che siamo a luglio, sicuramente c'è sempre un calo rispetto a giugno ed agosto. Il problema è che il calo è molto evidente, stiamo penso sopra il 50%, basta andare sui portali e vedere che ci sono parecchie strutture liberi, i prezzi si sono notevolmente abbassati, quindi si mette per notte anche per 60 Euro al giorno la matrimoniale. Purtroppo questo è il frutto di una non visione da parte di tutti. Nelle strutture extra alberghieri, alberghiere che lei rappresenta come i B&B o anche nelle strutture alberghiere, hotel e quant'altro? Purtroppo confrontandomi con i colleghi delle strutture alberghiere, questo è un sentimento condiviso da parte di tutti. Purtroppo c'è un calo evidente, la gente oggigiorno a Matera viene, fa una puntata di mezza giornata e va via. Quindi non è soltanto un fatto di presenza, di permanenza, è proprio un fatto di mancate prenotazioni, mi sembra di capire. Sì, sì, mancate prenotazioni e poi per agosto non promette nulla di buono. Noi purtroppo stiamo vivendo ancora, siamo supporto alla Puglia, gente che viene a fare le vacanze in Puglia e passava prima una notte, forse si andava bene due notti a Matera, oggigiorno passa la mezza giornata a Matera e va e ritorna in Puglia. Purtroppo questa è la realtà, non abbiamo ancora una visione completa di ciò che vogliamo del turismo a Matera, non sappiamo a quale target ci vogliamo aderire, non abbiamo nulla di tutto questo, questo è il risultato. Ci siamo forse soffermati dal 2019 in una autocelebrazione, non abbiamo avuto una programmazione, una visione a lungo termine. Questi sono i risultati purtroppo. Ecco, quando parla di programmazione a lungo termine a cosa si riferisce in particolare? Sicuramente, basta pensare che sono tre anni che non abbiamo avuto un assessore al turismo, una città voltata al turismo come Matera, è impossibile stare tre anni senza un assessore. Noi abbiamo chiesto a gran voce come associazione di investire in un manager del turismo, ormai oggigiorno il turismo è una scienza, nulla si può inventare, nulla può essere dato al caso, basta prendere esempio dalla Puglia che ha investito, si sta dando da fare e ha i risultati. Mancano evidentemente le infrastrutture essenziali per il turismo a Matera, basta pensare terminal bus, parcheggi turistici, parcheggi camper, segnaletica, infopoint, più ne ha più ne metta. Insomma, ripartendo da questi elementi infrastrutturali si potrebbe avere un'attrattività maggiore? Sì, non solo, questa è la base, le infrastrutture sono la base proprio di accoglienza, ma avere una visione, capire perché il turista oggigiorno dovrebbe venire a Matera. Mi dice oggi a 40 gradi stamattina cosa farebbe un turista a Matera, cioè non si creano laboratori, non si creano alternative, non si creano proposte turistiche. Oggigiorno è cambiato anche il modo di viaggiare, nulla è dato al caso, le persone prima di viaggiare hanno già pianificato dove, come, quando, quindi sta da intercettare prima che il turista decida dove di partire. Quindi spentasi la bolla del 2019, ci stiamo assestando su dei numeri abbastanza poco confortanti per il futuro, bisogna pensare ad una visione più a lungo termine, ad una visione più da città turistica che possa durare nel lungo periodo. Questo mi sembra il suo consiglio rispetto a tutto ciò. Sì, sì, basti pensare, noi dalla crisi del salotto ce ne siamo usciti col turismo. La gente che aveva investito, aveva comprato case, pagava i mutui, quando lavorava nel salotto, ha trovato un'altra economia, una microeconomia col turismo. Oggigiorno la gente, diciamo, molta gente di Matera è investito nel turismo, molte famiglie, quindi non si può lasciare nulla al caso. Stiamo andando incontro a una crisi economica, sicuramente cittadina. Si è confrontato anche con altre città vicine, insomma, che vivono di turismo, tipo Alberobello, tipo Locorotondo. Questo calo è soltanto riferito alla città di Matera o c'è anche in altre zone? Sicuramente la Puglia sta vivendo un exploit, quindi rispetto a Alberobello, a Locorotondo, noi siamo sicuramente in calo, loro guadagnano. La gente va ad Alberobello, va a Locorotondo, fa la puntatina a Matera e torna via. Ormai siamo inseriti nel tour turistico della Puglia, ma non come città principale, ma come città da vedere in una mezza giornata. Questa è la cosa triste. Grazie per la sua testimonianza, grazie a Guido Galante, Presidente dell'Associazione BNB Matera, grazie per quanto ci ha detto. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie.